vabbè la scioltura che aveva messo da parte del mondo dell'hard sembra aver cambiato idea e dopo aver annunciato di voler sposare andrea di pree infatti la scioltura ha comunicato che tornerà a girare i filmini in corte mentre nella pagina facebook il di pree sarà tornata in coppia a mostrarsi senza veri e la foto di da scalia comunichiamo emozioni sardomasi di pree di preeismo normalmente è scaderato i commenti di internauti insomma che sarà un po' avvicinata di pree che si sa che non è che gira nel mondo diciamo nel mondo dei confetti quindi spero che insomma sta notizia vi faccio capire qualche cosa e alla fine poi commentate voi sotto